La Polizia di Stato ha sanzionato per aver violato il codice della strada un triestino del 1974. Il personale della squadra volante lo ha fermato alla guida della sua autovettura in via Giulio Cesare, avendo notato la velocità sostenuta. Una volta espletati i controlli e sensibilizzato ad osservare una condotta di guida appropriata, l'uomo è risalito a bordo del mezzo e se ne è andato sgommando, proseguendo con una forte accelerazione. Prima un'esplosione, poi l'incendio. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno spento le fiamme, hanno trovato il colpo di un uomo carbonizzato. Si tratta di Giacomo Fasolo, 45 anni. Il dramma si è consumato a Spinea. L'allarme è scattato pochi minuti dopo l'una del mattino in Viale Viareggio. Qui all'interno del garage di un'abitazione si è verificata un'esplosione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. La deflagrazione è seguito un incendio. I pompieri, arrivati da Messe con un'autopompa, un autobot, l'autoscale, i nuovi operatori hanno spento il rogo che ha coinvolto il magazzino distaccato dalle abitazioni, trovando all'interno il corpo senza vita dell'uomo. Un senza tetto di origini marocchine, Omar Halmi, di 61 anni, è morto in un rogo divampato all'interno di un edificio abbandonato che si trova tra via Piave e via Zecchinella, Monte Belluna, poco distante dalla stazione che un tempo ospitava la pizzeria allo stadio. L'incendio divampato per caso ancora in corso di accertamento è stato spento dai vigili del fuoco che hanno rivenuto all'interno la vittima, rimasta sfissiata dal fumo di un bracciere che lui stesso aveva acceso per scaldarsi e stemperare il gelo della serata. Un 38enne trevigiano si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Caffoncello di Treviso. In seguito a un incidente stradale di cui è stato vittima, l'uomo è stato travolto da un'auto in transito lungo via Sant'Antonino a soccorrerlo, medico e infermieri del suo M118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Sull'episodio indaga la polizia locale di Treviso. Un fiume di fatture false e bonifici ad un ristorante di cucina orientale di Galliera Veneta nel Padovano che veniva utilizzato per ripulire denaro sporco, frutto di una maxifrode nel settore del confezionamento dei capi di abbigliamento. Questo quanto hanno scoperto le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso che hanno portato a termine un'indagine culminata con la denuncia di tre cittadini di origine cinese residenti tra le province di Treviso e Vicenza. L'accusa per i tre è di aver riciclato 382 mila euro. Rissa Cervignano del Friuli in Piazza Indipendenza, il titolare di un pubblico esercizio, ha chiamato i carabinieri sostenendo di aver assistito ad un alterco con percosse tra una decina di giovani, tutti aventi un'età presunta tra i 17 e i 18 anni. I giovani si erano picchiati di fronte locale per poi spostarsi in un'altra zona litigando anche con alcuni esercenti poi all'arrivo dei militari dell'arma. Tutti avevano già fatto perdere le loro tracce. Una lite è stata segnalata anche a Pavia di Udine. Quattro le persone che si sono affrontate all'interno di un edificio privato sul posto sono intervenuti i sanitari, tre soggetti sono stati medicati sul posto e una quarta persona, una donna, è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Mi pare che la lite fosse scoppiata tra i proprietari di casa e i due amici che avevano fatto loro visita. Il contesto economico non permette il conseguimento dell'intesa tra i chantier dell'Atlantic e Fincantieri. Lo riporta un comunicato congiunto italiano e francese al termine del colloquio tra il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, il ministro francese dell'economia Brun Le Maire e la commissaria europea alla concorrenza Margrette Vestager. La flessione rispetto all'anno precedente del 75,8%. Nel 2020 l'aeroporto Marco Polo di Venezia, il principale scalo del nord-est, ha registrato 2.799.688 passeggeri con una timida ripresa nei mesi estivi dopo il lockdown generalizzato scattato nel mese di marzo. In proporzione rispetto al 2019 è cresciuto il mercato domestico e non poteva essere diversamente dopo quello italiano. I mercati europei più attivi sono stati nell'ordine. Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. Sport Calcio l'Udinese ha annunciato l'acquisto di Fernando Llorente, attaccante spagnolo, proveniente dal Napoli. Il giocatore ha siglato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2022. Buone energie e tante piccole felicità. È in edicola il nuovo Almanacco Barbanera. Consigli di buon vivere per la vita in casa, la famiglia, il benessere, l'orto, il giardino e il balcone, seguendo la luna e le stagioni. Almanacco Barbanera 2021, in edicola con due preziosi regali, l'oroscopo 2021 e il calendario La Luna in Casa, per un nuovo prezioso anno di felicità. Sul Friuli Venezia Giulia, dal pomeriggio su bassa pianura e costa, probabile maggiore nuvolosità, possibile debole nevicata ogni vischio intorno alle creste di confine con l'Austria. Domani cielo da variabile a nuvoloso con più nubi sulle zone orientali, dove sarà possibile qualche debole pioggia o debole nevicata. Sui monti, oltre i 500-700 metri circa, foschie e nubi basse su bassa pianura e costa. Di notte e primo mattino saranno ancora probabili gelate in pianura. Passiamo al Veneto, poco o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, addensamenti più consistenti sulle dolomiti, specie su quelle più settentrionali, soprattutto nella seconda parte di giornata. Domani nuvolosità irregolare più consistente dalla tarda mattinata, possibile qualche nebbia sulla pianura meridionale occidentale nelle prime ore. Per quanto riguarda le temperature, minime in aumento ma ancora inferiori a zero anche in pianura. Massimi in rialzo in montagna, pressoché stazionarie in pianura. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAF, agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.